E' importante innanzitutto avere tutto ciò che dovrebbero avere anche gli altri siti internet, quindi un footer a norma, un footer ovviamente parlando di e-commerce, chi vende è un professionista, un business, quindi bisogna che vi sia l'indicazione precisa del business, l'indicazione della sede legale e soprattutto vendendo nel B2C, non nel B2B, quindi vendendo a clienti, persone fisiche, vi è la necessità che la persona fisica del cliente debba poter avere subito a vista d'occhio i contatti della società che vende, quindi un numero di telefono, se c'è un numero verde, piuttosto che un whatsapp o un'email. Bene sarebbe essendo una società avere anche l'indicazione della PEC, questo dovrebbero averlo tutti i siti nel loro footer, oltre poi ad avere termini e condizioni e laddove si vada a creare, vada ad usare il sito come un funnel, come tutti gli e-commerce dovrebbero, quindi bisognerebbe avere il cookie banner, la privacy policy, i termini e condizioni. Ma e qui tocchiamo il tasto dolente. In tantissimi siti che ho analizzato, anche siti di persone note, molto in vista sui social, vedevo che difettavano di una cosa, benché avessero i loro termini e condizioni del sito, non avevano i termini e condizioni di vendita dei prodotti. Alcuni che avevano questi termini e condizioni di vendita non avevano però i termini, i flag, quindi la dicitura di accettazione termini e condizioni di vendita non dava la possibilità al cliente di andargli a leggere, quindi quando tu andavi a cliccare, alcuni addirittura li hanno già cliccati, altri quando andavi a cliccare per leggere, i termini e condizioni non c'era un link che ti riportava e te li faceva leggere, ma ti faceva in automatico andare a flaggare la casella e questo non dovrebbe essere, non dovrebbe essere così, si dovrebbe dare la possibilità all'utente di andargli a leggere prima di accettarli, perché quello è un vero e proprio contratto e quindi il cliente, persona fisica, deve avere contezza di quello che va a flaggare e quindi ad accettare. Tra l'altro, se nel termine e condizioni vi sono delle clausole vessatorie, cosa sono le clausole vessatorie? Sono clausole più svantaggiose, in questo caso per il cliente, rispetto alla parte venditrice, ne deve avere contezza, conoscenza, deve essere chiaramente specificato di quali sono queste clausole vessatorie, devono essere indicate, magari anche con un carattere diverso per essere facilmente visionabili e andarli anche che sia a flaggare e a leggere. Questo anche da recentissima sentenza di Cassazione, anche del mese scorso, hanno ancora ribadito questa evidenza. Ma riguardo proprio a questo che stai dicendo, quindi dei termini e condizioni, quindi in generale le pagine delle carriere.